Ripartito ora il Day 2, ricordiamo 22 player left, abbiamo gli ultimi 3 tavoli in gioco, vedete subito lo stack di Mandrake che è uno dei primi big stack di questo torneo, le impostazioni stampa, diamo anche un'occhiata alle nuove fish che sono state create appositamente per questo Power Poker Championship, ricordiamo anche i bui che sono 5.000-10.000 collante a 1.000 e l'average stack che è a 234.090.